Oggi salutiamo Mariano Arini, uno dei giocatori più amati della Cremonese, un giocatore che ha dato tanto per tre anni di storia grigiorossa in serie B dall'indomani della promozione della Cremonese dalla C. È un giocatore che resterà comunque nel cuore dei tifosi, allora siamo venuti qui allo Stadio Zini per fargli dare anche l'ultimo saluto allo stadio che tanto lo ha applaudito. Vorrei partire dalle emozioni belle, da quanto di bello ti ha dato Cremona, la Cremonese, le emozioni di scendere in campo con questi colori. Sicuramente questa è un'intervista che non avrei assolutamente voluto fare, emozioni belle ce ne sono state tante, tre anni sono difficili da riassumere in un'intervista breve. Cremona e i cremonesi mi hanno dato tanto, ci sono tante persone che veramente sono diventate la nostra seconda famiglia, per noi, per mia figlia. Quindi sinceramente questo era un momento che non avrei mai voluto che arrivasse, però purtroppo non è di peso da me, calcio anche questo. Un malincuore ne prendo atto, però ringrazio veramente tutte le persone che ci hanno accompagnato in questo percorso di tre anni, sia quelle calcistiche che quelle extra calcio, che forse sono più importanti di quelle del calcio. Tu non sei mai stato un giocatore di tante parole, più che altro di atti? Sì, fa parte del mio carattere, sono di poche parole, preferisco lavorare e fare quello che mi riesce meglio, insomma poi ripeto fa parte del carattere. I tuoi progetti per il futuro? Ancora presto, c'è stata qualche chiamata ma per adesso non è niente di particolarmente interessante da spingermi a decidere, quindi per adesso sto qua a Cremona, poi vediamo che succede. Sai quando hai dei figli, dopo mio figlio al 7 devi iniziare la scuola, la prima elementare, quindi diventa un po' difficile spostare tutto. Noi eravamo abbastanza convinti di restare, quindi avevamo un po' anche progettato il nuovo anno. Ti chiedo di fare un saluto ai tifosi cremanesi. Innanzitutto volevo ringraziarli per la stima e l'affetto che mi hanno dimostrato in questi anni dentro e fuori dal campo e anche in questi giorni dove veramente mi sono arrivati migliaia e migliaia di messaggi che ho fatto veramente fatica a rispondere tutti, quindi veramente li ringrazio per questa stima e per l'affetto enorme che mi hanno dimostrato.